Ciao, sono Alessandro Micaia e faccio tanti auguri di Buon Natale a tutto il popolo bianco-rosso. Forza ragazzi, ciao! Ciao, sono Luigi Garzia, volevo fare gli auguri di un sereno e felice Natale ai lettori di Tutto Bari e a tutti i tifosi baresi. Un abbraccio a tutti, ciao! A tutti i lettori di Tutto Bari e a tutti i tifosi auguro un buon Natale, buone feste e ovviamente l'augurio di rivederlo presto in Serie B. Il Bari, sempre in avanti sino alla fine, c'è questo delizioso palonetto di Donda. Ciao, gente di Bari, sono Mariano Donda, Isabella, vi invito un abbraccio grande da Buenos Aires, vi auguro buone feste e un grandissimo 2022. Forza Bari, sempre. Un bacio. Ciao, Isa. Ciao, bacio grande. Buongiorno a tutti, auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i tifosi del Bari e ai lettori di Tutto Bari. Un abbraccio grande e sempre Forza Bari. Krioski dal fondo un cross e guardate rovesciata di Igor Kroppi, il gol del 2-1 per il teso maretto delle cannoniere barefiche. A tutti gli amici di Tutto Bari, soprattutto a tutti i meravigliosi tifosi bianco e rossi, auguro un fantastico Natale, un indimenticabile anno nuovo. Ho vinto in crociate e vi mando veramente un immenso abbraccio che si sente tutti nel mio cuore. Porta Bari, sempre. Ciao, ragazzi. Vorrei farvi auguri di buon Natale e buona festa a tutti. Forza Bari. Buon Natale, buon Natale a tutti i tifosi del Bari, in grande posizione di classifica e quindi sarà un bel Natale per tutti i tifosi e sarà un bel Natale anche per me, Carletto Perrone, che alleno in Portogallo. Anch'io con la mia squadra, l'Oglianensi, siamo primi in classifica. Il mio sogno per il 2022 è di fare una bella amichevole a fine campionato dove festeggeremo, speriamo, le due promozioni. Ma intanto facciamo tanti auguri di buon Natale, che passiate delle belle feste natalizie, in serenità con le vostre famiglie. E sempre forza Bari, grandi complimenti a quello che sta facendo questa grande squadra, che sta tornando, speriamo, nel calcio che conta. Un abbraccio da Carlo Perrone a tutti i tifosi del Bari e Bari.com. Grazie. Eccolo Vitaly Futuzo che interviene, riesce a mettere dentro, ha perso anche questo controllo, poi però riesce in qualche modo a ritrovare il pallone, guarda. Tanti auguri a tutti i tifosi di Bari. Un saluto. Ciao, volevo fare tantissimi auguri di buon Natale a tutti i tifosi del Bari. Vi auguro in meglio un abbraccio grande a tutti. Ciao. Ciao.